Se volessi scuotere quest'albero con le mie mani, non ne sarei capace. Ma il vento che non vediamo lo tormenta e lo piega nella direzione che vuole. Così avviene a noi, nel modo più terribile veniamo piegati e tormentati da mani invisibili. E più si vuol salire in alto, più le nostre radici affondano nella terra, nell'oscurità, nel profondo, nel male. Quest'albero si erge solitario qui sulla montagna, è cresciuto alto sopra uomini e animali. E se volesse parlare, non avrebbe nessuno che lo capirebbe. Tanto è cresciuto, egli dimora troppo vicino alla sede delle nubi. Aspetta forse il primo fulmine? Così noi, quando sentiamo il bisogno del nostro tramonto, e cerchiamo di salire in alto in attesa del primo fulmine, della nostra libertà. Ma ti scongiuro, non gettare via l'eroe che nella tua anima, pronto ad amare e sentire, tieni sacra la tua somma speranza.